Addio all'infradito, arriva Neckfit, la suola in gomma che permette di camminare ovunque. Neckfit è la start-up italiana che promette di dar gran filo da torcere a mass dell'estate. Le ha infradito, come? Attraverso una suola in gomma che si può applicare sotto la pianta del piede per evitare di bruciarsi o farsi male. Le suole Neckfit sono leggere, ipoallergeniche, facili da indossare e da togliere. Permettono di proteggere il piede anche da batterie e infezioni, ad esempio in piscina, alle terme o negli spogliatoi. E le loro suole ipoallergeniche evitano di entrare in contatto con eventuali impurità che si trovano sul pavimento. Neckfit è un prodotto made in Italy, idoneo anche per chi segue la filosofia vegan e il ginnopodismo, cioè chi decidere di camminare scalzo nelle proprie attività quotidiane. Le suole si possono già acquistare su Kickstarter, piattaforma di crowdfunding. Esistono tre modelli diversi di Neckfit, uno per le donne, uno per gli uomini e uno per i bambini. Le consegne sono previste tra luglio e dicembre 2017, ma i clienti sembrano impazienti di indossare le nuove Neckfit. La start-up infatti ha raggiunto una buona soglia di euro raccolti, quando l'obiettivo iniziale era di soli 20.000 euro.